Vittoria col brivido per la Cali Calguero che nella gara 2 dei play-out batte 70-67 la Gea Magazzini Alcamo. È stata una partita simile al più classico degli psicodrammi, come ormai nella tradizione della formazione algerese, padrona del campo per gran parte del match per poi rimettere incredibilmente in corsa le avversarie fino a rischio beffa. Il primo quarto è terminato sul 21-16, mentre a fine tempo le due formazioni sono andate negli spogliatori sul 41-29 Cali. A rientro dall'intervallo lungo la musica non cambia ed arriva al massimo vantaggio algerese più 17 sul 50-33. Ci si mette anche la sfortuna che mette a utile onore alla scala infortunata al ginocchio destro e dal trentesimo è 55-51. Alcamo ci crede ed arriva una sola lunghezza di distacco sul 67-66 a 47 secondi dalla fine. Martellini firma il 70-67 finale.